Rapinata dell'incasso della serata mentre stava tornando a casa con ogni probabilità è stata seguita dai banditi. Un'operatrice che in questi giorni sta lavorando al festival a Periscio ad Arsego è stata derubata da alcuni malviventi mentre stava facendo rientro nella sua casa a Piazzola sul Brenta la notte tra sabato e domenica. La vittima ha raccontato ai carabinieri di essere stata gridita e rapinata intorno alle 3 di notte appena avarcato il cancello della sua abitazione. In tasca aveva una busta con 12.000 euro l'incasso dell'intera giornata della Kermesse. In forte stato di shock la donna non si è nemmeno resa conto di quanti fossero i malviventi e se fossero armati di sicuro erano 2 o 3 e sono scappati nel buio della notte.